Partiamo allora dalla riete. Oggi cercate di riposare il più possibile, evitate situazioni di stress e a pranzo cercate di stare leggeri. Toro, oggi sarà un'altra buona giornata in cui potrete rilassarvi e ricaricare le batterie come e quanto desiderate. Se avete degli impegni familiari li prenderete dal verso giusto. Gemelli, oggi sarà una giornata piacevole ma un po' confusa in cui rischierete di iniziare diverse cose e di non finirne nessuna. Alla sera se volete divertirvi cercate di restare un po' più sul qui e ora. Cancro, anche oggi vi sentirete piuttosto nervosi senza un vero motivo, vi darà fastidio un po' tutto. Vista la settimana che avete appena passato sarà il caso di rilassarsi un po'. Leone, oggi sarà una domenica davvero piacevole in cui potrete godervi il tempo libero e riuscirete a dedicare più tempo del solito anche al vostro hobby preferito che ultimamente avevate messo un po' da parte. Vergine, per una volta oggi i pensieri e le preoccupazioni saranno facili da allontanare e potrete godervi alcune ore di autentico relax da soli o in compagnia a seconda di come vi siete organizzati. Bilancia, oggi potrebbe essere un'altra giornata difficile e poco divertente. Qualcosa o qualcuno vi metterà di cattivo umore e poi vi sarà molto difficile recuperare il sorriso anche se in realtà non si tratterà di nulla di grave. Scorpione, è una domenica piacevole e divertente quella che avete davanti dove qualsiasi cosa abbiate in programma riuscirete a rilassarvi, sia che dobbiate gestire impegni familiari o del tempo totalmente libero. Sagittario, oggi sarà una giornata un po' pigra in cui non avrete molta voglia di mettere i piedi fuori caso o fuori da luoghi che conoscete bene. Se possibile preferireste invitare qualcuno a casa vostra e preparare qualcosa di buono ai fornelli. Capricorno, gran bella giornata la vostra, oggi saranno davvero poche le cose che vi andranno storte, gli impegni familiari prenderanno meno tempo del previsto e non saranno per nulla noiosi. Acquario, anche oggi vi sentirete un po' stanchi, la vostra riserva di energia sarà ridotta al minimo quindi vi consigliamo di rimandare ogni genere di impegni. Pesci, oggi sarà una domenica abbastanza piacevole. Il vostro umore migliorerà rapidamente e vi piacerà sentirvi parte di qualcosa anche se solo per poco tempo. Alla sera quattro chiacchiere con un vecchio amico concluderanno degnamente la giornata. Grazie. 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 Grazie.